Buongiorno e buon sabato a tutti. Oggi credo che sia importante parlare un attimino di questa variante Omicron che mi pare stia terrorizzando l'Europa e alcuni stanno terrorizzando anche gli italiani. Allora che cosa sappiamo di questa variante Omicron? Quali quadri clinici dà la variante Omicron? Ci dicono il mio collega Adrian Brink e i medici inglesi che i primi casi che hanno visto sembrano essere dei casi meno impegnativi rispetto a quello che avevamo sia con il virus originale che con la variante Delta. Uno studio che è stato pubblicato in questi giorni dice che la variante Omicron, quindi il virus, si concentra 70 volte di più nei bronchi rispetto a quanto avvenga con la variante Delta e 10 volte meno nei polmoni rispetto a quello che avviene con la variante Delta e col virus originale. E quindi cosa vuol dire? Che un conto è avere una bronchite e sappiamo tutti cosa vuol dire avere una bronchite, quindi un'infezione che rimane più nelle alte vie respiratorie rispetto ad avere una polmonite e mi pare abbastanza evidente. La contagiosità di questa variante Omicron è molto più contagiosa rispetto a quello che già avviene con la variante Delta che già sapevamo essere molto più contagiosa del virus originale. Quindi abbiamo una variante che ha una contagiosità probabilmente tra una malattia infettiva contagiosa come la varicella e il morbillo. Sappiamo che il morbillo è una delle malattie infettive contagiose più contagiosa, scusate il bisticcio di parole, ma evidentemente questo pone un problema, ma non tanto per l'impatto sulla mortalità quanto evidentemente per la morbidità, cioè per quante persone contemporaneamente stanno male. Immaginate se una variante del genere arrivassi alla popolazione scoperta potrebbero esserci veramente milioni di persone che contemporaneamente stanno male e stanno male. Anche se non arrivano ad avere la polmonite, anche se non arrivano ad avere quei quadri aggressivi, certamente avere un paese che sta male contemporaneamente per una forma di una bronchite, di un'influenza forte, certamente non aiuta. Considerate che l'influenza ha un indice R con 0 che è di uno, uno e mezzo, arriva al massimo a due, cioè vuol dire che per ogni persona che ha questo virus addosso ne contagia uno o due. Qui rischiamo di avere che per ogni persona che si contagia, per ogni persona contagiata potrebbe contagiarne 10, 11, 12, 13, 14, quindi pensate quante persone potrebbero contagiarsi. Quindi questo evidentemente è l'aspetto che più preoccupa, più che l'aspetto di impatto su quella che è la mortalità, la letalità di questa infezione. Dato più importante che noi oggi sappiamo e su cui dobbiamo, a mio parere, essere tutti molto chiari è che due dosi di vaccino sono in grado probabilmente di evitare di avere le forme più impegnative, quindi almeno di evitare che se le persone arrivino all'ospedale. Ma la cosa più importante è che tre dosi di vaccino ripristinano praticamente la funzionalità completa del vaccino. Quindi chi è triplo vaccinato non dovrebbe avere problemi con la Omicron, salvo il fatto che potrebbe evidentemente magari contagiarsi come già avviene in una percentuale molto piccola, ma avere dei sintomi assolutamente molto blandi. Quindi un paese come il nostro che oggi ha oltre il 20-25% della popolazione che ha ricevuto la terza dose e che comunque ha moltissime seconde dosi non deve essere terrorizzato da questa variante. I colleghi hanno pensato bene di terrorizzare la gente dicendo che i vaccini non funzionano, dicendo peraltro anche che gli stessi che un mese fa dicevano che i vaccini dei bambini non vanno fatti e oggi dicono che bisogna vaccinare i bambini. Un po' di coerenza forse non farebbe male anche a qualche mio collega che forse l'unica cosa che ha di interesse è di terrorizzare la gente. Io far parlare i medici, cioè far parlare chi fa il medico sul campo e quindi i medici sudafricani, i medici inglesi, lo stesso dato dei medici danesi che hanno visto questa variante da un mese e non hanno visto un aumento significativo delle ospedalizzazioni. Quindi io eviterei di continuare a terrorizzare la gente pensando arriva la Omicron, la fine del mondo, lockdown, chiudiamo l'Europa. Io credo che continuiamo sulla strategia che abbiamo portato avanti fino a oggi, che ci ha portato ad essere un paese in qualche modo invidiato da tutto il resto del mondo e da tutto il resto dell'Europa senza far venire meno i capisaldi che ci hanno portato fino a qui. I capisaldi della campagna vaccinale sono stati, noi applichiamo alcune misure, alcune attività le fanno unicamente i vaccinati e i guariti, altre evidentemente chi non si è vaccinato non le può fare, quindi non muoviamoci da questa strategia.